Raffica di denunce a furbetti del reddito di cittadinanza Marche multiservizi dietro fronte l'assemblea sull'aumento dei compensi Caso Moneti si spera in risarcimento dopo la perizia sull'incidente Stati generali della disabilità per una pesaro più inclusiva A Sasso Corvaro si ritrovano i salvatori dell'arte col 25esimo premio Rotondi La buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione serale di Rossini News Telegiornale di martedì 6 giugno che oggi apriamo con la cronaca Siamo all'indomani del 209esimo anniversario dell'arma dei carabinieri Che vi abbiamo mostrato nel telegiornale di ieri E oggi il comando provinciale ha divulgato i numeri di un'indagine Che ha portato a denunciare negli ultimi mesi diversi pesaresi Che avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza In assenza dei requisiti richiesti dalla legge E ricorrendo a false dichiarazioni su redditi percepiti Partendo dall'elenco provinciale degli ammessi a percepire l'erogazione in parola I carabinieri hanno verificato come decine di soggetti Non possedevano addirittura il primo requisito utile Ovvero la cittadinanza italiana o la residenza anche non continuativa di 10 anni Gli accertamenti effettuati, oltre a consentire la rilevazione di condotte penali carico di 21 soggetti Hanno permesso di segnalare oltre 60 persone Al fine di promuovere le azioni di competenza per bloccare l'erogazione E avviare l'azione di recupero delle somme illecitamente percepite L'erogazione in debita è stata quantificata in oltre 100.000 euro E sono state elevate sanzioni amministrative per 200.000 euro Niente aumenti ai compensi per il consiglio d'amministrazione di marche e multiservizi Il caso politico che ha tirato in ballo negli ultimi due mesi la società pesarese Oggi ha avuto un punto con l'assemblea dei soci che ha deliberato il ritorno ai precedenti compensi Il caso politico deflagrato lo scorso aprile sugli aumenti dei compensi al consiglio d'amministrazione di marche e multiservizi Si è definitivamente sgonfiato questa mattina deliberando il dietrofront sugli indennizi Che riporta il CDA ai compensi precedenti L'assemblea dei soci di marche e multiservizi si è infatti riunita in mattinata nell'auditorium di Pesaro Per trattare un unico punto all'ordine del giorno Relativo appunto alla determinazione dei compensi dell'organo amministrativo L'assemblea con la presenza del 97,34% del capitale sociale Ha deliberato con 97,24% dei voti favorevoli dei presenti Di confermare i precedenti compensi dell'organo amministrativo Nella misura di 38.000 euro per il presidente Andrea Pierotti Anziché dell'incremento che era stato ipotizzato a 60.000 euro 59.506 euro anziché 100.000 per l'amministratore delegato Mauro Tiviroli Ai quali si aggiunge una parte variabile legata al raggiungimento degli obiettivi di 50.000 euro Per quel che riguarda gli altri sette consiglieri d'amministrazione I compensi rimangono 9.000 euro anziché ai 15.000 che erano stati previsti Nel complesso piano di aumenti proposto dal presidente della provincia Giuseppe Paolini Che aumentava complessivamente i premi a 112.000 euro annui Presente oggi all'assemblea dei soci anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci È una delibera che di fatto conferma quanto era già stato assunto dal consiglio Nella seduta dell'8 maggio nella quale era stato preso atto della rinuncia Dei singoli componenti dell'organo amministrativo Relativamente alla quota incrementata nell'ultima assemblea dei soci E un altro caso che riguarda marche e multiservizi È quello relativo alla discarica da realizzare nella frazione petrianese di Ricceci Un caso che oggi è arrivato al consiglio regionale ad Ancona Attraverso l'approvazione all'unanimità di una mozione dei consiglieri della Lega Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri Nella mozione si chiede alla giunta regionale nel pronunciarsi secondo le proprie competenze In merito alla valutazione di impatto ambientale E di esprimere la propria totale contrarietà nei confronti del progetto della discarica Già depositato presso la provincia di Pesaro Urbino Tutto ciò in ragione delle molteplici criticità emerse Dal sovradimensionamento del progetto all'avvicinanza ai centri abitati Fino all'impatto sulla vallata E torniamo a parlare dei casi relativi alla famiglia pesarese Moneti Che oggi hanno avuto una mattinata importante in tribunale Dove sono emerse novità legate all'incidente che il 25 maggio del 2014 Costrinse in sedia a rotelle il giovane Alessandro Dopo la prima udienza dello scorso 18 maggio Questa mattina al tribunale di Pesaro c'è stato il secondo incontro della causa civile Che dall'incidente del 25 maggio 2014 attanaglia la famiglia Moneti Una notte, quella, che ha stravolto la vita di Alessandro e di chi gli vuole bene Portandosi via non solo le pacifiche abitudini della loro vita Ma apparentemente anche ogni elemento che potesse far risalire alla reale dinamica dell'incidente Complice di quella nuvolosa vicenda il pirata della strada Che dopo lo schianto tra la sua auto e lo scooter del 26enne Avvenuto verso le 4 del mattino in via Gradara Sarebbe fuggito senza allertare i soccorsi Nel corso del primo incontro il giudice ha ascoltato il testimone di quella notte Considerando le sue parole attendibili E procedendo ora, dopo la seconda udienza, con la disposizione della perizia medico-legale E' stata fissata oggi la perizia medico-legale, la CTU, presso il dottor Braccini nel suo studio A luglio, al 13 di luglio, quindi poi ci saranno i termini per depositare la perizia Quindi tutto è andato secondo le previsioni Insomma noi abbiamo nominato il nostro consulente Poi ci sono i termini tecnici per depositare le perizie 60 giorni per il deposito della perizia con le osservazioni dei vari consulenti E quindi poi il processo viene rinviato, aggiornato a marzo del 2024 Poi si avrà la sentenza entro l'estate dell'anno prossimo Quindi tutto è andato come speravamo Ragionevolmente c'è da pensare che ci sarà risarcimento dopo la perizia Insomma i danni di Alessandro sono talmente evidenti, talmente grandi Purtroppo è evidente che avrà un grande risarcimento dei danni Quanto grande non lo possiamo dire perché sarà il medico legale a stabilire esatto punteggio Certo in Alessandro si parla di danni importanti Insomma quindi ovviamente siamo contenti per lui soprattutto Perché oltre che per il fatto che si sia fatta giustizia su un caso Che era aperto da tanti anni ma senza una soluzione Quindi questa è la soddisfazione più grande Perché lui potrebbe riaprire una nuova fase della vita Se i positivi sviluppi sull'incidente dal punto di vista giuridico Potrebbero portare un po' di serenità tra i moneti Ecco che a negargliela c'è di nuovo la questione sulla loro abitazione Alessandro e la sua famiglia dopo il complicato sgombero del loro appartamento di Soria Ed essersi sistemati provvisoriamente da una loro zia Sarebbero dovuti entrare dal primo di giugno nella loro nuova casa in affitto a Loreto Così però non è stato La signora 84enne, proprietaria dell'immobile Che mesi fa aveva firmato un contratto con Giuseppe, padre di Alessandro A sorpresa si sarebbe tirata indietro I moneti però nelle settimane precedenti al primo di giugno Avevano già sistemato alcuni mobili E portato diversi scatoloni di vestiti In quella che sarebbe dovuta essere la loro nuova dimora Ennesima questione che passerà però per vie legali Purtroppo si è aperto un contenzioso anche su quello Perché la signora che aveva deciso sulle prime di affittare la casa Aveva firmato un contratto adesso si sta tirando indietro Però siamo in contatto con il suo avvocato Per trovare una soluzione Probabilmente chiederemo i danni E la restituzione di quanto dato della caparra E chiederemo i danni per il disagio patito Però è una fase che stiamo trattando adesso con la controparte Quindi non dobbiamo solo decidere che entità di danni chiedere Quindi la speranza vostra è che poi venga trovata un'altra sistemazione? Sì, probabilmente andrà trovata un'altra sistemazione Quella di adesso Comunque anche se provvisoria Può starci per un periodo Perché insomma loro per il momento vivono lì E hanno iniziato la loro vita lì Poi si vedrà insomma se troverà una soluzione più confortevole Bene Però al momento insomma Dobbiamo prima risolvere la questione Della vecchia casa in affitto E poi decidere il resto C'è stato un nuovo prelievo multiorgano all'ospedale Santa Croce di Fano I familiari di un paziente di 75 anni ricoverato e deceduto lo scorso primo giugno Hanno infatti acconsentito alla donazione di fegato e corne Equipe mediche interne ed esterne all'ospedale Hanno così effettuato con rapidità le procedure medico-legali Inerenti all'accertamento della morte cerebrale E quelle organizzative relative a spianto, prelievo e trasporto degli organi Conclusesi con successo È un episodio che testimonia la sensibilità crescente Verso la donazione negli organi e nelle marche Dove si sono registrati 105 trapianti nel 2022 appena trascorso Una cifra in crescita rispetto ai 90 dell'anno precedente Pesaro continua il suo impegno verso una città sempre più accessibile e inclusiva Un impegno che passa attraverso la seconda edizione degli Stati Generali dell'Accessibilità Che si terranno venerdì e sabato 9 e 10 giugno 2023 Arti Visive Pescheria Al centro Arti Visive Pescheria Ci vediamo per questa seconda edizione degli Stati Generali Un momento di condivisione Punto della situazione rispetto alla prima edizione dello scorso anno Sono invitati tutti Potete partecipare se siete rappresentanti di associazioni Piuttosto che di enti Liberi cittadini Se avete proposte, voglia di ascoltare e condividere Il tema dell'accessibilità I temi dell'accessibilità Vi aspettiamo al centro Arti Visive Pescheria Il 9 e il 10 giugno Potete iscrivervi anche per richiedere il pranzo per il sabato Le giornate saranno venerdì pomeriggio e sabato Tutta la giornata con i tavoli di lavoro nel pomeriggio Ma potete richiedere per il sabato anche un pocket lunch Che abbiamo preparato per l'occasione Potete richiedere se avete bisogno un transfer Per coloro che hanno mobilità ridotta Direttamente al centro Arti Visive Pescheria Ma tutti potranno partecipare Vi aspettiamo perché sarà il momento giusto Per fare il punto della situazione Capire cosa sta funzionando Cosa non ha funzionato Cosa siamo riusciti a attuare rispetto all'anno scorso Ma soprattutto e finalmente Avere la prima restituzione del PEBA Il piano di eliminazione delle barriere architettoniche Che l'anno scorso è stato richiesto Che abbiamo commissionato e che quest'anno potremo vedere Torniamo per la seconda edizione degli Stati Generali Che quest'anno addirittura raddoppia le giornate Perché l'anno scorso abbiamo vissuto questa esperienza E una mezza giornata di tavoli di lavoro Che coincidevano un po' con gli assessorati Di discussioni inserano fatte tante C'è stata una pubblicazione di tutto il resoconto Di quei tavoli E quest'anno partiremo proprio da quel resoconto Quindi quella lista e quel renderci conto effettivo Di che cosa è stato fatto e di che cosa ancora dobbiamo fare Come potete immaginare tante cose Tante ne abbiamo fatte ma tantissime Sono ancora quelle da fare Saranno proprio lo spunto di partenza di quest'anno E quest'anno oltre al lavoro Negli tavoli di sabato pomeriggio Abbiamo inserito dei panel di discussione Su temi vari Temi che potevano anche questi Riprendere un po' i temi degli assessorati Ma capite che la questione della disabilità e dell'accessibilità È talmente trasversale Che tutto può andare bene per tutto E quindi partiremo venerdì pomeriggio Dopo la presentazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini Del Sindaco E una mia relazione Ci saranno dei panel di discussione su temi come la sessualità Che è ancora un grande tabù Un tabù in generale Figuriamoci quando dobbiamo parlare della sessualità Ed è un tema di quelli che mi è stato richiesto dai cittadini Poi parleremo di scuola e quindi anche di ricerca Verranno delle ricercatrici dell'Università di Urbino Del Dipartimento di Studi Umanistici Ci racconteranno che cosa sta facendo anche l'università qui vicino a noi Quindi temi vari che Ho la pretesa Abbiamo la pretesa Che coinvolgano i cittadini Anche quelli che non sono direttamente coinvolti dalla disabilità Perché non la vivono personalmente O perché non la vive nessuno dei propri familiari Ma che comunque sono incuriositi Fondamentalmente quando mi chiedono come mai fai il garante alle persone con disabilità Io lo faccio perché sono profondamente egoista E so che se sistemo la mia città Per le persone che hanno difficoltà a livello di barriere Se elimino le barriere architettoniche Sensoriali Comunicative E mentali La mia città e la mia società migliorerà E io vivrò meglio Passi avanti sui lavori allo stadio Benelli di Pesero Dopo che la giunta comunale ha approvato oggi la delibera Che prevede la permuta con Aspes Del campo supplementare Che la stessa Aspes aveva dato incomodato al comune E la vecchia tribuna Una permuta che permetterà di proseguire con le tappe Previste per la rigenerazione Che per quello che riguarda la parte prettamente sportiva Vedrà entro la metà di questo mese Il previsto rifacimento del campo da calcio principale Con lavori per 900.000 euro Una rigenerazione che proseguirà poi con il progetto sul Benelli Che presenterà Aspes per riqualificare la zona Tra le opere previste La nuova sede del Circolo Amici della Vis Servizi igienici Una farmacia E una sala pulifunzionale Che sarà utilizzata per ospitare sia sale e riunioni Sia attività e incontri delle quartiere Ha compiuto 60 anni l'azienda marchigiana Trevalli Cooperat È divenuta in questi decenni Il terzo gruppo lattiero caseario d'Italia Un compleanno che è stato celebrato nel weekend Anche al Tar Hotel di Fano Alla presenza tra gli altri Del ministro dell'agricoltura Lollobricida 60 anni del marchio Trevalli Sono un momento che spiega il saper fare marchigiano Che ha portato questa azienda A essere ai livelli come player nazionale La capacità che ha avuto Trevalli in tutto questo periodo È quella di aver saputo anticipare Le tendenze del mercato E produrre prodotti di qualità Trevalli ha un fatturato di circa 250 milioni di euro Per oltre il 50% È fatta con prodotti altamente innovativi Sia a base latte sia a base vegetale Questo verrà sviluppato ulteriormente nei prossimi anni Perché la tendenza di mercato va proprio in questa direzione La zootecnia sicuramente nelle aree interne Nelle aree collinari di alta collina È una necessità È una delle poche attività che possono essere svolte E gli agricoltori in queste aree possono svolgere un ruolo importante A tutta l'area del territorio Copperlat è una grande famiglia Prima di essere una grande azienda Ha avuto momenti alti e momenti più bassi Questo momento qui è una fase Diciamo di crescita È stata per noi che arriviamo dalla Lombardia Un matrimonio sicuramente fortunato Perché Copperlat ha un valore aggiunto Che noi non abbiamo Quello della vegetale Perché la vegetale rappresenta un po' il business dell'azienda In questo caso non si tratta soltanto oggi Di festeggiare un'azienda che ha raggiunto 60 anni di attività Ma si tratta di difendere un presidio di produzione Che non ha soltanto effetti economici importantissimi Per il nostro sistema allevatoriale Ma addirittura tiene insieme le aree interne Della nostra regione, della nostra provincia Del nostro paese Le aree più impervie Quelle che sono considerate le aree difficili da vivere Sono quelle che tengono vive i nostri allevatori Perdere l'allevamento Perde l'attività allevatoriale Significa anche impoverire il nostro paese Anche impoverire quel presidio Dei contadini e degli allevatori Che sono i veri difensori dell'ambiente Ma guardi, la Sudecchia italiana Io credo anche da questo punto di vista Sia un altro esempio virtuoso Il benessere animale messo al centro Grande garanzia di equilibrio Allevamenti intensivi ridotti al minimo Abbiamo visto anche le immagini degli allevamenti Dei produttori di latte In questa regione Però c'è un tentativo di stigmatizzare Invece l'allevamento Di porlo al centro dell'inquinamento Come se i nostri allevatori fossero colpevoli Del cambio climatico Quando invece le cose non stanno affatto così Ed è oggettivo Oggi l'Italia e l'Europa Rispetto ad altre nazioni Sostanzialmente inquinano in maniera molto marginale Certamente non possiamo pensare A un mondo senza l'allevamento E senza l'agricoltura Che metterebbe davvero in discussione Il nostro sistema Creando disastri in termini di dissesto idrogeologico Dal 15 luglio alle 15 settembre Sarà attiva Gabice Mari Il servizio di potesturistica aggiuntiva Ovvero l'ambulanza con autista, soccorritore e infermiere Nella fascia di urna Un potenziamento che è stato deliberato oggi Dall'Agenzia regionale della sanità Di concerto con l'azienda sanitaria territoriale Continua la generosità dei pesaresi Verso le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna In questo caso sono stati gli studenti del liceo Marconi A raccogliere 500 kg di alimenti E generi di prima necessità Coinvolgendo la regia della fondazione Banco Alimentare Che ha provveduto a consegnare i materiali Alla Caritas di Forlì Dall'8 all'11 giugno si terrà Archivissima 23 Festival e Notte degli Archivi Nell'occasione la rete degli archivi storici di Pesaro Propone viaggiare per Carnet de Voyage Un appuntamento che si articolerà in due momenti Giovedì 8 giugno alle 18 Verrà infatti inaugurata l'esposizione documentaria Viaggiare per all'archivio di Stato di Pesaro Con un intervento del filosofo Paolo Ercolani E poi il 9 giugno per la notte degli archivi L'appuntamento è al centro ricerche floristiche Brilli Cattarini dalle ore 20 Per la iniziativa Giardini di Resistenza Ora ci spostiamo ad Urbino dove domani sera 7 giugno Si celebrerà il 601esimo compleanno del Duca Federico da Montefeltro Dopo il maestro Uto Ugi quest'anno l'inaugurazione delle rievocazioni È stata affidata al musicista cantautore Angelo Branduardi A partire dalle 21.15 nel salone del trono di Palazzo Ducare Insieme al cantautore della Fiera dell'Est ci sarà il polistrumentista Fabio Valdemarin Nell'occasione sarà presentato il libro Confessioni di un malandrino Autobiografia di cantore del mondo Con Angelo Branduardi che proporrà anche dei brani live Conto alla rovescia per la Montefeltro Art Week Che sfocerà sabato 10 giugno nella 25esima edizione del premio Rotondi Un premio attraverso il quale dal 1997 Il comune di Sasso Corvaro onora i salvatori dell'arte Taglia il traguardo delle 25 edizioni il premio Rotondi di Sasso Corvaro Il 10 giugno nella rocca ubaldinesca il comune onorerà i salvatori dell'arte locali Nazionali e internazionali ripercorrendo l'opera di Pasquale Rotondi Alla cui memoria venne istituito il premio nel 1997 Una rassegna presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord Partner del premio che in questa edizione sarà assegnato a Iorn Kozan e ai salvatore dell'arte ucraina A Francesco Lotoro che in tanti anni ha recuperato strumenti e musiche Elaborati dai musicisti internati nei lager nazisti E poi ancora saranno premiate le azioni di recupero dell'arte di Jacopo Dabolli Mario Scaglia, Marika Mercalli, Paolo Conti, Floriano Biagi e Franco Signoretti Il sasso che abbiamo lanciato nello stagno dell'opinione pubblica tanti anni fa Oggi arriva con le sue onde, addirittura quest'anno, pochi mesi fa, arriva alle scuderie del Quirinale Dopo aver fatto tante altre tappe prestigiose Quindi è un venticinquesimo che festeggiamo con questa cornice splendida della mostra del Quirinale E lo festeggiamo con salvatori dell'arte di straordinaria portata Il 10 giugno alle 16 a Sasso Corvaro ci sarà la cerimonia di premiazione di questa venticinquesima edizione Momento che sarà il clou di una rassegna che anche quest'anno si declina fra Sasso Corvaro, Carpegna e Urbino E si amplia negli eventi collaterali dei quattro giorni della Montefeltro Art Week Una settimana che prevede un viaggio nel Montefeltro Alla scoperta dei luoghi dove sono state salvate le opere d'arte Ma un viaggio che parla di storia, che parla di cultura e che parla di arte Nel nostro programma abbiamo cercato di inserire mostre di arte contemporanea Dare spazio anche ad artisti locali Ma soprattutto avvicinare il premio alle scuole Questa è la cosa più importante Quindi da quest'anno, come potete vedere, già da giovedì 8 avremo la mattina il premio Pasquale Rotondi Junior Un premio interamente dedicato alle scuole Eventi che il giovedì sera proseguiranno a Palazzo Ducale di Urbino Con lo spettacolo teatrale di Cinzia Spanò, Palma, Bucarelli e l'altra Resistenza Il venerdì Sasso Corvaro inaugurerà la mostra diffusa Metallo Poliedrico di Andrea Rossi E il Palazzo dei Principi di Carpegna ospiterà il premiato Francesco Lotoro L'uomo che torna dar voce alla musica nei lager Sabato, il pomeriggio dedicato alla premiazione Sarà preceduto dal taglio del nastro in mattinata Della presentazione del murales di Cico Sart dedicato ai 25 anni del premio Domenica la Montefeltro Art Week sarà chiusa dallo spettacolo teatrale Il Sogno di Agnese della compagnia del gruppo Atena Ogni anno dobbiamo lottare con i tagli che ci sono stati sui contributi al premio E quindi siamo sempre ad organizzare più eventi con meno risorse Quindi qualcuno può dire ma com'è possibile questa cosa? E' possibile perché per fortuna abbiamo aziende sul territorio che credono sulla cultura Che credono nella cultura come volano di rinascita per i nostri territori E quest'anno ho detto che inizierò il premio proprio ringraziando questi sponsor Perché è grazie a loro che il premio ha 25 anni di storia Partner e sponsor fra cui spica Confcommercio e i suoi itinerari della bellezza Pasquale Rotondi ha fatto un'opera straordinaria salvando veramente l'arte italiana Portando a Sasso Corvaro nella Rocco Baldinesca e a Carpegna nel Palazzo dei Principe Molte delle opere d'arte italiane da Tiziano, Raffaele Insomma l'elenco sarebbe lunghissimo E quindi bene fece 25 anni fa Salvatore Giannella a ideare questo premio E bene sta facendo oggi il comune di Sasso Corvaro a proseguire questa iniziativa Che ha un grande valore dal punto di vista storico e culturale Ma mi permetto di dire anche un grande valore dal punto di vista turistico E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News Prima di salutarci vi ricordiamo i nostri appuntamenti di questo martedì 6 giugno Alle 20 parleremo di scuole, in particolare dell'Istituto Alberghiero Mostrandovi il nostro speciale dedicato alla giornata conclusiva Del progetto di orientamento in gemellaggio con le scuole medie cittadine E poi alle 9 un appuntamento in diretta Quello con il cortile dai musei civici dove andrà in scena L'intervista a più voci, 9 anni da sindaco Trasmetteremo dunque in diretta questo bilancio del primo cittadino Matteo Ricci A un anno dalla fine del suo doppio mandato da sindaco di Pesaro Altro appuntamento in diretta è quello consueto del mattino con Buongiorno Rossini Anche domani, mercoledì 7 giugno, l'appuntamento è alle 7.20 in diretta Con la rassegna stampa dei quotidiani locali Che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Ed è davvero tutto invece per questo spazio informativo Rossini News Da parte mia di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito E vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti